Sì, è tanto emozionato. Ma avevi detto che stava in sicura? Ma no, papà, la sicura è questa, è in sicura, non spara, vieni! Aude, che ti sei messo in testa? Voi sei in tedesco? Chi è lei? L'esattore d'Ambrogio. Lasciami a me lo spiritoso. Ma che siete venuti a fare? Ma dai, faccio vedere quando fai la prima multa. Ma che dici? Sono anni che aspettiamo questo momento, dàci questa soddisfazione. Aude, ma che sei cascato? Stasera quando io racconto alle amici al bar Ceri, sape che si fa? Aspetta. Che c'è, fa la multa? E questa volta andate via? Oh, non mi menaccio, non più il numero di matricola e te denuncio. Ma chi? Celletti, la tua divisa ha preso un filo. Al primo errore, la perdi. Signor sindaco, aspetti con fuga. È un reato, signor sindaco, aspetti. Ma perché mancarite contro di me? Perché ho fatto la multa al sindaco. Ma non aveva detto che al processo faceva saltare pure il governo? Ma so cose che si dite. Però è l'ingiustizia. È meglio che ti abitui da piccola alle ingiustizie, perché poi da grande te ci abitui più. Grazie. 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 Grazie.